Fotocamere nuove contro fotocamere vecchie. Si sa, spesso noi fotografi addetti ai lavori o anche semplicemente fotoamatori ci facciamo un po' prendere la mano da questo tema. Sembra che sia un po' una gara ad avere l'ultimo gadget tecnologico, l'ultimo modello uscito. Eppure oggi sono qui a parlarvi nuovamente di questa bellissima macchina che è la Canon EOS 5D Mark II, una macchina di cui ho già parlato. Oggi andremo a vedere se la consiglio ancora per il 2024 perché a questo punto è una macchina veramente un po' datata. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia. Scatto prevalentemente con attrezzatura Canon e quindi qui abbiamo la Canon EOS 5D Mark II che è stata la seconda fotocamera full frame che io ho acquistato in vita mia. La prima fu infatti la 6D prima versione che acquistai nuova. Questa qui è stata la seconda full frame che ho comprato che acquistai usata ed è stato l'unico corpo macchina che ho acquistato usato in tutta la mia vita perché per una serie di motivi di solito preferisco acquistare il nuovo. Ora prima di cominciare a parlare di questa macchina io vi invito a iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto perché seguiranno aggiornamenti su questa macchina e non solo anche su qualcosa di più nuovo quindi non vi tedio soltanto con le anticaglie. Lasciate anche un like a questo video che mi date una grossa mano e adesso cominciamo subito a parlare di questa vecchia signora che però secondo me ha ancora da dire la sua. Dunque cominciamo col dire una cosa. Perché faccio questo video? Perché molti mi chiedono che fotocamera conviene comprare per cominciare? Questa secondo me è un'ottima possibilità perché si trova chiaramente usata questa è una macchina che è fuori produzione quindi non si trova più nuova si trova solamente usata se trovate un usato in buone condizioni quello che ho trovato io era un usato in ottime condizioni infatti per 900 euro mi sono portato a casa la macchina con 70.000 scatti quindi praticamente metà della sua vita metà del prezzo che costava originariamente io conto che mi duri più di 150.000 scatti quindi conto di aver fatto un buon affare un buon affare comunque perché è una macchina che mi ha regalato tante soddisfazioni e nel suo piccolo continua ancora a farlo quest'anno ho intenzione di usarla dunque uno dei punti forti quindi sicuramente è il prezzo questa macchina si trova per un prezzo assolutamente irrisorio per quello che offre e che cos'è che offre? allora abbiamo una qualità di immagine di tutto rispetto perché siamo un pelino oltre i 20 megapixel quindi questa macchina praticamente ci dà lo stesso formato di immagine di una Canon EOS R6 che non è male ragazzi è un formato che è sempre attuale andrà sempre bene un formato come questo è una cosa che non scade una qualità di immagine come questa e un formato come questo non scadono anzi addirittura io vi dico che ha troppa risoluzione per i social per esempio quindi è una macchina che si può tranquillamente usare ancora oggi dunque il prezzo e la qualità di immagine sono caratteristiche assolutamente premianti in una macchina come questa addirittura io vi dico che secondo me la qualità del file che viene fuori da questa macchina è superiore alla qualità di Canon EOS 6D d'altronde stiamo parlando di una macchina che usciva come professionale contro la 6D che usciva come entry level del full frame quindi non pienamente professionale per cui questa macchina secondo me regala un file più bello veniamo però ai contro perché i pro purtroppo sono un po' finiti qui nel senso che questa è una macchina come detto un po' vecchiotta quindi la troveremo usata uno dei primissimi contro che mi sento disegnare è che la troveremo molto usata nel senso che sono macchine molto vecchie per cui le troviamo sì ma le troviamo in condizioni non sempre ottimali nel senso che sono macchine molto usate sono macchine molto vissute e non sappiamo mai cosa ci stiamo portando a casa funzionerà o non funzionerà siamo qui per scoprirlo però è anche possibile che ci portiamo a casa una macchina che abbia ancora poca vita residua un altro contro che me la sento di segnalarvi questa macchina utilizza le card flash che non è che non vadano bene diciamo che è un formato secondo me un po' obsoleto e molto costoso sono delle memory card che personalmente ho sempre trovato molto costose grosse difficili da utilizzare è difficile trovare l'adattatore per scaricarsi le immagini bisogna comprarne uno fatto apposta quindi un po' antipatica questa memory card secondo me per molti versi un corpo macchina che non ha nessuna funzionalità touch quindi scordiamoci di usarla come uno smartphone qui abbiamo un live view con cui possiamo anche scattare ma non possiamo fare niente tramite display quindi soltanto bottoni io mi trovo benissimo su una macchina del genere perché a me piace avere le ghiere fisiche i bottoni fisici per un tipo di utilizzo passatemi il termine moderno da smartphone non è proprio la macchina più indicata perché è una macchina un po' vecchiotta per contro è un'ottima macchina su cui fare scuola e su cui imparare perché se impariamo su una macchina come questa poi sulle mirrorless è una passeggiata un'altra cosa su cui questa macchina non è particolarmente brillante sono i video è vero che questa è stata la prima fotocamera reflex in grado di girare video in full hd con una risoluzione e una qualità decorosa e questa è stata la macchina che ha aperto il mondo a molti videomaker che hanno cominciato a fare video con questa e poi con altre macchine ma questa qui è stata la prima in assoluto se ricordo bene quantomeno la prima a farlo bene quindi è vero che è in grado di fare video e se aggiornate il firmware come era l'ultima versione ha messo di trovarla potete anche gestire l'esposizione manualmente nei video cosa che nativamente se ricordo bene non era possibile fare però è una macchina un po' limitata ci permette di fare video era la novità quindi non aspettatevi delle funzioni avanzate per quanto riguarda il video avremo probabilmente un solo codec un solo framerate e non abbiamo la possibilità di fare tanto altro da questo punto di vista il sistema di messa a fuoco questa è la vera nota dolente di questa macchina secondo me perché il sistema di messa a fuoco non esito a dirlo è molto acerbo se avete mai tenuto in mano qualsiasi cosa di successivo quindi una 7D una 80D anche una 700D ha un sistema di messa a fuoco migliore di questa nel senso che questa è una messa a fuoco a 9 punti molto lenta solamente il punto di messa a fuoco centrale è affidabile diciamo che è un sistema di messa a fuoco che funziona però io non ci farei tantissimo affidamento e comunque non possiamo andare a scattare nulla che si muova più velocemente di una persona che cammina anzi di una persona che cammina piano in quei casi secondo me è molto meglio giocarsela a mano perché andiamo a essere più precisi giocandoci alla vecchia maniera a mano piuttosto che ricorrendo all'autofocus su una macchina come questa quindi per chi è questa macchina? secondo me questa è una macchina perfetta per me per esempio io ci faccio fotografie di interni mi trovo benissimo ho tutto il tempo di mettere a fuoco sto scattando a f8 con un grand'angolo quindi non ho problemi di sorta per tutti gli altri utilizzi ovviamente va bene anche per paesaggio e sì va bene anche per ritratto ma per tutti gli utilizzi un po' dinamici quindi sport, concerti io non me la sento di consigliarla attenzione bisogna pur sempre sottolineare una cosa quando non c'erano le mirrorless si usava questa per fare matrimoni, concerti e sport e quindi si può fare non è che non si possa fare è che se io oggi vi consiglio questa per fare sport voi giustamente venite da me mi dite ma cosa mi hai consigliato c'era un sacco di cose migliori e mi hai consigliato proprio questa ed è per questo che non ve la consiglio perché si può fare sport con questa si è sempre fatto però non è la scelta migliore perché oggi per fare sport per la stessa cifra potete prendere qualcosa di meglio questa non è pensata per fare sport è pensata per fare un po' di tutto ma cose che non si muovono che si muovono comunque piano quindi fotografia di studio still life foto di interni architettura fotografia industriale lì ve la cavate benissimo quindi se siete dei foto amatori o anche dei professionisti che fate fotografia di interni questa è una macchina fenomenale da tenere come secondo corpo secondo me perché comunque visto che la prendete usata un po' datata io non andrei in giro con una macchina con un body così usato che magari mi lascia a piedi quindi la atterrei infatti la tengo come seconda macchina anche se poi alle volte la uso come prima macchina e tengo un'altra macchina come ripiego quindi è una macchina che comunque ti dà ancora un bel piacere nell'essere utilizzata e soprattutto il fatto di essere così poco digitale di non avere niente di touch a me personalmente restituisce un'esperienza d'uso molto bella molto gradevole quindi è una macchina che io ho un grandissimo piacere a utilizzare anche perché io ho cominciato su macchine come questa macchine che erano quasi più analogiche che digitali nel senso sì erano digitali però avevano i bottoni avevano tutto ancora molto tattile non c'era niente di touch non c'era niente di wireless era tutto o col filo o comunque con i pulsanti e con le ghiere quindi secondo me un must per gli amatori anche di vecchia data che vogliono comunque regalarsi un corpo in grado di tirare fuori delle buone immagini questa macchina tira fuori delle immagini eccezionali basta capirla sapere come utilizzarla e andare a creare una sinergia con questo corpo un ultimo punto di forza che vi segnalo è che comunque è compatibile con tutte le ottiche Canon EF oltre a quelle di terze parti quindi abbiamo un parco ottiche impressionante con cui giocare se andiamo a dotarci di una fotocamera come questa in definitiva la consiglio ancora nel 2024 beh ragazzi non posso dirvi che se mi chiedete quale macchina devo comprare non posso dirvi che vi consiglio questa su tutte sarebbe una bugia non è vero non è quella che vi consiglio su tutte però se state cercando una full frame entry level con cui cominciare a sperimentare questa la trovate veramente al prezzo di un paio di scarpe quindi secondo me vale la pena farci un pensierino perché è una bella macchina è una vecchia macchina professionale quindi se la trovate usata in buono stato piuttosto che prendere una entry level tutta piena di tecnologia tutta piena di cose che in qualche maniera vi distraggono dalla tecnica se volete imparare secondo me potrebbe essere meglio questa dipende anche da che cosa trovate e da come è messo l'usato a questo punto fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate se avete già qualcosa del genere se ci state pensando se questo mio video vi ha fatto cambiare idea su qualcosa fatemelo sapere in un commento vi ricordo anche di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti io vi ricordo che sovente rispondo alle vostre domande con dei contenuti video shorts verticali quindi se vi iscrivete non rischiate di perdervi neanche quelli vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me io e la 5d vi diamo appuntamento al prossimo video video